Il Limiti è nata poco più di due anni fa. Era una presentazione in PowerPoint, come si suol dire, e oggi siamo quasi 700 persone appassionate che fanno una cosa utile per il nostro Paese, crediamo, perché ci dedichiamo al credito per le piccole e medie imprese, non tanto quelle ricche e belle che hanno la fila fuori delle banche che vogliono lavorare con loro, ma quelle che potrebbero andare meglio, quelle che hanno avuto dei problemi ma possono ritornare in binario, o addirittura quelle che hanno avuto dei grandi problemi ma c'è ancora del valore da recuperare. Tutto questo è stato possibile perché abbiamo coltivato fino in fondo le nuove tecnologie, perché abbiamo capito che nel settore bancario tutto sta cambiando in funzione delle tecnologie digitali, in funzione della concorrenza enorme che si è creata, in funzione delle nuove regole anche monetarie, e abbiamo cercato di attirare in banca alcune delle persone più competenti nei vari settori, perché è sempre la combinazione di competenze e tecnologia che può creare impresa, impresa nuova, impresa che funziona. Dopo due anni i nostri risultati li abbiamo raggiunti, abbiamo recentemente annunciato un piano di impresa che porterà quasi 10 miliardi di attivo, di credito, di investimento al grande mondo delle piccole e medie imprese italiane.